si gioca come detto su un campo che subito appare pesantissimo la sfida fra 2m e misano si gioca senza troppi grilli per la testa vediamo proprio i tentativi del direttore di gara di far imbalzare il pallone poi la decisione si scende in campo si prova a portare a termine un incontro a mercato saraceno nella speranza che la pioggia possa dare in un certo momento della partita un po' di tregua alle due formazioni che però nella prima frazione di gioco hanno dovuto fare i conti sicuramente con un terreno piuttosto accidentato ma hanno comunque sia dato vita ad una prima frazione di gioco ricca di occasioni di emozioni causate lo possiamo dire anche dalle condizioni precarie in cui si è giocato siamo allora al terzo minuto l'occasione per il gol e c'è la risposta su Gomez Ferreira quella del portiere Cappelli poteva essere il vantaggio per il misano che continua a crederci continua a spingere con questo diagonale sul fondo Traini sfiora il vantaggio come detto per i riminesi e poi al decimo il calcio d'angolo la risposta della portiere potrebbe uscire non ce la fa nella circostanza la 2m ce la farà successivamente mentre qui vediamo proprio come si lotti sul pallone in area di rigore la conclusione di Traini sul fondo un misano che sfiora come detto il vantaggio in diverse circostanze la squadra che sembrava essersi adeguata meglio alle condizioni difficili su cui con cui si sta giocando questo match che in un certo momento si trasforma quasi in una gara un po' fantoziana dove però emerge alla grande il solito Riccardo Montesi trova lui lo spunto per gettare il pallone alle spalle del portiere del prete con davvero grandissima capacità tecnica che viene esaltata proprio dal terreno accidentato la reazione immediata della misano con questo cross effettuato dall'attivissimo Traini il portiere controlla il pallone ma troppo attivo in questo caso Traini che si fa fregare anche dal campo scivoloso intervento in scivolata espulsione diretta per lui nonostante le sue proteste misano che resta in 10 misano che però nonostante l'inferiorità numerica trova il pareggio colpo di testa di Gomez Ferreira ed è l'1 a 1 alla trentanovesimo minuto di gioco il match che a questo punto sembra poter essere di nuovo in equilibrio sembra poter preludere a un secondo tempo da vivere col cuore in gola con l'ultima mischia al termine della prima frazione di gioco quella che però introduce una ripresa che non si svolgerà il la sfida viene definitivamente mandato in archivio solo per ora con la punteggio di 1 a 1